Andrew Jackett la scorsa serata ha vinto il Texas Pro 2022 qualificandosi per l'Olympia 2022 al suo debutto da pro gara molto molto interessante, questa è la scorecard finale vedete Andrew ha vinto con 6 punti totali quindi i giudici avevano le idee chiare secondo Martin Fitzwater, terzo posto per mia enorme sorpresa Steve Cuclo poi Kamala Ilgarni e Quinton Eraia allora non mi sarei mai aspettato innanzitutto che Steve sarebbe arrivato terzo e che Andrew avrebbe vinto la gara non me lo sarei veramente mai aspettato che sarebbe andata così la gara alla fine Steve è arrivato terzo perché non era nella sua miglior forma di sempre la condizione era buona ma non la stessa dell'Arnold Classic era definito però era molto scarico era molto flat e sembrava veramente molto molto piccolo soprattutto accanto ad Andrew ora con il suo terzo posto ha preso mi pare 3 o 4 punti e quindi è terzo nella classifica punti quindi per il momento lui è qualificato l'Olympia a meno che qualcuno non lo superi nella classifica questa tra l'altro era anche l'ultima gara negli Stati Uniti quindi se vuole qualificarsi l'Olympia vincendo una gara dovrà fare qualche gara europea comunque vittoria veramente impressionante di Andrew Jack così per la prima volta ho potuto vederlo su un palco accanto ad atleti seri non come quando ha vinto la Pro Card comunque c'erano molte aspettative su Andrew che alla fine le ha mantenute alla fine farò un video anche di analisi più approfondita domani o dopo domani su Andrew onestamente a me non mi ha impressionato così tanto tutti sono rimasti impressionati però onestamente io non sono rimasto scioccato come tutti ne parlerò meglio domani però alla fine secondo me la vittoria ci sta perché alla fine lui era quello un po' più completo tra massa e definizione Steve non era nella sua miglior forma di sempre poi al secondo posto è arrivato Martin Fitzwater che penso sia stata la sua miglior forma di sempre perché un Martin così definito e così pieno non l'ho mai visto ha portato veramente un'ottima ottima forma per la prima volta l'ho visto anche i glutei striati che non aveva mai portato quindi lui e Branch hanno fatto veramente un ottimo lavoro assieme poi quarto posto Kamal Algarni Kamal come sempre era squartato fino all'osso però accanto agli altri risultava veramente molto molto piccolo e questa è una gara di muscoli quindi quarto posto di Kamal giusto perché risultava veramente molto molto piccolo accanto agli altri e infine nel quinto posto Quinton e Raya ottima prestazione così simile a Tampa della settimana scorsa forse era anche un po' più definito comunque io mentre guardavo il pre-judging veramente non sapevo chi avrebbe vinto la gara perché guardavo Andrew e speravo che Steve sarebbe migliorato durante il pre-judging però così non è stato Steve secondo me batteva Andrew nel side tricep nel side chest e forse nella mass muscular però Andrew batteva Steve in tutte le altre pose tranne secondo me il front double bicep in cui nessuno dei due vinceva perché non è la miglior posa per entrambi soprattutto per Andrew che è molto carente ha un'assenza totale di avambracci quindi non è molto buona quella posa per lui però tutto sommato la sua vittoria secondo me ci sta una cosa devo dire che onestamente preferivo il palco dell'anno scorso era più bello e anche la live stream era nettamente migliore perché quest'anno con la live stream vedete per metà inquadrano il pubblico e per metà il palco e non si riesce a vedere niente e non ci vuole un genio a capirlo che si vede molto sfoccato da lontano fare uno zoom sarebbe gradevole comunque Andrew ora farà anche l'Arno Classic UK tra 5 settimane quello sarebbe stato il suo debutto da pro iniziale e sarò veramente molto curioso di vedere come se la caverà Andrew accanto ad altri atleti molto molto forti come James Hollinshed, Mark Hector e tanti altri atleti comunque il vittore di Andrew secondo me ci sta la gara veramente molto molto bella dove qualunque cosa poteva succedere fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere chi secondo voi meritava veramente questa gara o se l'ha vinta giustamente Andrew domani o dopo domani farò un video di analisi sul suo fisico fatemi sapere vi chiedo il like e il commento come al solito se ancora non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo in un nuovo video